Finisce nelle mani della Procura della Repubblica l'appalto da 32 milioni di euro relativo all'acquisto di automezzi speciali e attrezzature antincendio boschivo da parte dell'ente in house della regione Calabria Verde che funge da stazione unica appaltante. I fondi comunitari parte del PORFES del 2007-2013 dovrebbero essere utilizzati da bando entro il 31 dicembre, ma Calabria Verde un mese fa ha sospeso la procedura per permettere che venga fatta chiarezza. Una lettera del dirigente di settore della protezione civile aveva infatti fatto le pulci all'avviso sollevando diverse osservazioni. Rilevitari da far arrivare i documenti della gara all'autorità nazionale anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone che non si è ancora espressa in merito. Nel frattempo però altri due funzionari, stavolta del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentare che l'organo deputato al controllo sulla gara hanno lamentato il mancato invio della documentazione che avrebbe permesso di definire prezzi unitari relativi alla gara. Ma non solo, i dirigenti vanno anche oltre mettendo in dubbio le motivazioni sulla sospensione della procedura di aggiudicazione dell'appalto avanzate dall'ente in house. Intanto il tempo scorre e il rischio concreto è che si possa perdere il finanziamento europeo che aveva come limite massimo per l'espletamento delle procedure il 31 dicembre. Grazie per la visione!